Parte 2 del video di stamattina, se ve lo siete persi è andata benissimo, 0 Gohan in mille stone è proprio magico fantastico Avevo un piano nel jump, ok, ed era molto semplice come piano, pullare le mille stone, trovare Gohan, il piano era quello ovviamente Trovare Gohan e uscirmene con un Broly, comprato colpiti Pulliamo su Gohan, se lo troviamo compriamo Broly, non lo troviamo compriamo Gohan Puntiamo a Gohan perché è un PG più interessante anche ad Ability Free, partiamo Anche perché voglio tirare quelle cannonate con il coso, voglio tirare le cannonate con il... Ok, va bene, grazie mille, Krilin C18, voglio tirare le cannonate con la stand, sono belle? Sì! Sono rotte? Sì! Fatemele tirà! Vediamo un po', sta Krilin C18 Animation, ci porta un Family Kamehameano! Sì, si comincia, si comincia Spero veramente di non fare doppia shaftata perché, raga... Do di matto, oggi do di matto Do veramente di matto, se facciamo doppia shaftata ve lo giuro, do di matto Metal Cooler Int Cosa sono? 3 SSR fuori dal banner così o è GSSR? Gohan GL, buono, ok È vero, nel Global c'è Gohan GL, nel Jump c'è Gogeta Vabbè, sì, Gogeta è un pochino più interessante di Gohan GL, quello è vero Probability quindi si accetta e si va avanti, anzi si può giocare anche con il Gohan nuovo Trunks e Mai, seconda multi, signori Cordeo Warida Vediamo un po' Yes, Family Kamehameha, andiamo Family Kamehameha, seconda animazione, Trunks e Mai Ora mi dà Gohan e Godo sotto Godo, Godo, Godo Anche se nel Jump mi ha fatto sclerare Godo Perché almeno ce l'ho Almeno ce l'ho, posso dire, posso giocarlo Golden Frizzah Int! Non ce l'avevo e quindi Godo Assolutamente Godo, non ce l'avevo Accetto, accetto, accetto Golden Frizzah Int Che devo uscire così a random, un po' come oggi nelle pool del Jump Perché mi vado a trovare due C17 Intel R In tre anni che è uscito e passa Tu non sei in Rate Up, ma perché sei uscito sia qua che nel Jump? Perché? Qual è il motivo? È un segno È un cacchio di segno, eh ragazzi, sta roba È un cacchio di segno! Vabbè Vegeta! Oh my God, number one da Kakarotto! Give it to me! Eccolo lì Vegito! Tre... cos'è? Tre LR e tre multi? Bello! Tre LR e tre multi, dai! Sarebbe l'ora che mi dai Gohan STR, Dokkan, dai! È l'ora È l'ora È l'ora di trovare Gohan STR Dai, dai che è l'ora di trovare Gohan STR Dio santo Gohan AGL, Ability 2 Mi perseguiterà, lo devo portare Avrò l'Itac Lui, lui no Gohan Int Dio santo Peccato, 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 peccato Per onor di cronaca Stamattina Nel primo giro da Gohan Dalla prima Alla free Quattro Vegito È mai successo una roba del genere Omega? Niente Omega Va bene Questa è la Shaft La Shaft Zero Stone Questa qua la schiviamo velocemente perché Dai, chi se ne frega Potevo schivare velocemente, raga Era giusto schivare velocemente Dammi Gohan, porca Eva Global, ti prego Ok, va bene Le animazioni Ah Ok Mi ha dato più troppe LR prima Mi ha dato troppe LR prima Double? Ok, va bene Wow 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 Aspettate che skipo ancora Wow Non è in re-tap quel Goku Perché è uscito già due volte, Dokkan? È un segno Ok Va bene Va bene, calma Calma Is disvegito No Ok Ti sta dando tutti i Gohan del gioco Tranne quello che cerchi Il gioco ti sta dicendo qualcosa Che non devo avere Gohan? Che me lo devo comprare? È probabile Probabile, probabile È molto probabile È la cosa che mi fa molta paura Va bene Va bene, andiamo Che sono queste animazioni? Vabbè Devi pullare da Broly No No No, devo no No, 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 no Fine No, no No, no, no Basta No, no Fine Ok Fine E no, no, no E basta Re Vegeta Ok Va bene Multifree Ok Stessa animazione di prima Va bene Ok Me la sogno durante la notte Sta musichetta E immagina quando devo andare Ad editare poi il video È la parte peggiore Ragetta Tech Ciao Ragetta Tech Le 50 stone global le danno Per il top grossing Immagino di sì Credo che abbiano già fatto top grossing In alcuni paesi Give it to me Blu dai Perché sei più figo È blu Gohan LR STR Dal film Second coming di Broly Grazie L'ho detto proprio bene L'ho detto proprio bene Dai Dokkan Fai il bravo Fai il bravo Fai il bravo Bergod Mod 220 2.0 Grazie mille Quando daranno le stone Eh non lo so Il global martedì almeno Devi aspettare Per le stone del top grossing Goku uccello Vaffangulo Non era l'ultimo Però calma Calma Ok va bene Facciamo finta di niente Posso dire che Tra questa canzone Quella della parte Uno mi sanguinano le orecchie Se le sento ancora Tranquillo Non dobbiamo pullare ancora troppo Quindi Chi se ne frega Nel senso Oh il trio Dell'ave maria Il trio dell'ave maria Eccoli qua Sono loro Sono loro Quelli che mi portano A 3S SR Oh 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 Double 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 Vabbè Non so Non so che dire Non Non so come Comprenderla Sta animazione È banner Ok va bene Va bene Ah brogli STR Ok Eh sì Eh sì raga Eh sì 300 stone Andiamo Di nuovo Il trio dell'ave maria Zeno No Ok va bene Vorrei solo vedere Gohan pullato Doc Ti prego Femini Ah Ok Calma Ci vuole solo Calma E sangue freddo Raga Solo quello Dobbiamo stare con calma E con il sangue freddo Gohan Ce lo portiamo a casa In qualsiasi In qualsiasi caso Ok Quello è giusto dirlo Gohan Me lo porta a casa A prescindere Va bene Ok Va bene È un segno Tipo È una roba Non può essere Whis Animation Quindi Vabbè Non è che ho molto da dire Va bene Accetto le due copie Di Gohan AGL Perché comunque Gli do l'ability E quindi mi va bene Però È un repeat Del 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 Letteralmente Le uniche cose che mi sono portato a casa Effettive Ok Che dici Ok Le utilizzi sono Il Gogeta Che l'ho portato a ability 3 Perché è uscito un Gogeta Quindi ability 3 Gogeta E i due U7LR Che per la prima volta In Quattro anni Quel cacchio che è Da quando sono usciti Ok Quattro anni O quel che è Da quando sono usciti L'ho portato ad ability 2 Letteralmente È un repeat È un repeat È Yeah Molte Gratis Dopo dobbiamo anche Andare a vedere A quanto siamo Depiti Giusto per capirci Krillin da solo Ti prego Salvami Salvami Krillin da solo Krillin da solo Chat Dai Non punta bene Sta roba Ve lo dico Double 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 Calma Abbiamo visto La Broly Ok Broly Crack the screen Calma Forse è il momento Di trovare Gohan Ti prego Go Cuccello Mannaggia Caroli 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 No no C'è anche nel Nel Japs C'è anche lì C'è anche lì A rompere le balle Tranquillo Ok No è incredibile È incredibile Dite grazie che c'è il Peti raga Dite veramente grazie che c'è il Peti perché No comment la situazione No comment la situazione Andiamo a vedere a quanto Siamo di Peti Andiamo a vedere quanto Siamo di Peti Ok Un attimo solo Giusto per capirci Se devo fare altre Multi perché Cioè L'andazza è questo È probabile che non Devo fare altre Multi L'andazza è questo Io non ho più voglia Di pullare raga L'andazza è questo qua L'avete visto Cioè non è che 4.91 Boom ci compriamo Gohan Basta Abbiamo finito Abbiamo finito raga Abbiamo finito Basta Abbiamo Abbiamo finito Cosa devo continuare A pullare Scusate Cosa devo continuare A pullare Voglio saperlo Cosa devo Continuare A pullare Fine Basta Cioè raga No è oscena Sta roba Fine E' un repeat Di Di stamattina E quindi Yebo Ecco qua Gohan Boom Comprato Gohan Yebo Basta Chiudiamo così La parte 2 Nel Global Mi va bene così Perché Non ne ho voglia Scusate Ye ci siamo Eccolo qua raga Giusto per chiudere il video Almeno faccio vedere Hey Ce l'ho Almeno qua ce l'ho Ye Global al Gohan Il Jap non al Gohan A Broly Chiudiamo così le pullate Gohan c'è E ci divertiremo nel Global A fare la roba con i super E nel Jap La roba con gli extreme Che Ci sta Tanto nel mio Jap Ho comunque il super hero Definitivo Tutto full ability Quindi non è che Oh mi serve per forza Gohan E' bello da giocare Quello Assolutamente Però Sopravvivo senza Nel Nel Jap Sopravvivo tranquillamente Senza Ragazzi è stato un piacere Grazie mille per aver visto Queste pull Questo pity In realtà È stato un piacere Lasciate un bel like Commentate Se siete nuovi sul canale Considerate l'iscrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti